Buongiorno brava gente Pace bene cari amici, è il primo giorno di questa grande settimana santa, ieri ci siamo ricordati come siamo invitati ad entrare con Gesù, abbarcare la porta di Gerusalemme e abbarcare anche la porta di questa settimana santa. E oggi il Signore ci viene incontro, il Vangelo di oggi ci viene incontro con un episodio straordinario. Intanto siamo, immaginate per chi conosce Assisi, Assisi Centro Storico e Santa Maria degli Angeli. Bene, Gesù si trova a Betania, come se fosse poi a Santa Maria degli Angeli, a pochi chilometri da Gerusalemme e va a trovare gli amici, quell'Azzaro che aveva risuscitato, Marta e Maria che spesso si rivolgevano a lui. Abbiamo diverse scene del Vangelo che si consumano in casa di Marta e Maria e oggi in questa casa si consuma l'amicizia, si vive l'amicizia e vi è una seconda virtù, quella della generosità. Allora sono due aspetti molto importanti. Intanto è interessante vedere come Gesù, in un momento difficile della sua vita, va a trovare gli amici. Io ho trovato una bella espressione, gli amici sono il coraggio di Dio. La trovo verissima questa affermazione. E' vero, nei momenti difficili noi abbiamo bisogno di un'amica, di un amico, di una persona che ci stia accanto, che ci ascolti. Nei momenti anche di gioia vogliamo condividere alcuni sentimenti belli che la vita ci dona con gli amici più cari, con gli affetti più cari. A volte vogliamo rivelare un segreto e lo vogliamo rivelare all'amico più prossimo. Quindi gli amici rappresentano il coraggio di Dio nella vita. E Gesù, qui mostro a tutta la sua umanità, si rifugia dagli amici, quegli amici che gli vogliono bene. Il Libro della Sapienza ci ricorda che chi trova un amico trova un tesoro. Ed è bello constatare come in questo tempo così difficile le persone che più ascoltiamo, più ci rivolgiamo, sono gli amici. E allora credo che in questa settimana santa affidare anche al Signore le persone amiche che ci ha fatto conoscere. Le persone che abbiamo incontrato e che rappresentano una parte importante delle nostre storie, della nostra storia. Ecco, Signore proteggili, Signore difendili, Signore stagli accanto. L'altra virtù che il Signore ci affida oggi, ed è bellissima la scena, Maria che va ai piedi di Gesù e rompe questo vaso di nardo profumato. Un amore disinteressato. La generosità chi ama è felice di amare, cioè non specula sull'amore. E quindi l'invito ad essere generosi. Iniziamo questa settimana pensando a questa grande virtù della nostra vita, la generosità. Qualcuno mi potrà dire, sì Padre Enzo, ma qui siamo già a corto, è un momento difficile. Vedete, la generosità non è solo dare qualcosa, ma la generosità è il dono di sé, del proprio tempo. E allora, anche se non abbiamo possibilità economiche di essere generosi, e vedete, credo che poi sia l'ultima cosa che ci chiede il Signore, ma sia il dono di sé, del proprio tempo. Voi pensate se spalancando gli occhi sulla vita, attorno nei nostri condomini, riusciamo a capire che c'è una persona in difficoltà, che non può andare a fare la spesa e gli doniamo il nostro tempo. Te la vado a fare io, te la porto io la spesa. Una persona che sappiamo che sta sola, gli facciamo una telefonata. Come stai? Volevo assicurarmi che stai bene. Come stai vivendo questo momento? Allora voi capite, la generosità davvero è quando il Vangelo dice il dono della propria vita, del proprio tempo. Questo tempo così prezioso. E poi l'ultima considerazione. Quando è che Francesco è generoso? Come potremmo commentare francescanamente questa scena del Vangelo di oggi? Ci sono due episodi. Il primo, all'inizio della sua conversione, si toglie il mantello e lo dona ad un ricco che era diventato povero. Ed è bellissimo. Cioè togliersi qualcosa di proprio per donarlo all'altro. Francesco dona questo mantello che aveva. Un'altra scena più avanti nel cammino, potremmo dire quasi alla fine del suo cammino, a un certo punto una mamma vedova, povera, va a trovare una comunità francescana, dove c'era Francesco e dove c'era, immaginate, il proprio figlio che era diventato frate. e chiede l'elemosina. Voi pensate anche all'imbarazzo del figlio che vede la mamma nella sua comunità con San Francesco che viene a chiedere l'elemosina. Francesco dice, prima usa un'espressione bellissima, la mamma di un frate è la mamma di tutti i frati. bella questa, questo cammino di San Francesco che invita a considerare l'altro, l'altra persona è come parente, come consanguinio, no? E poi dice, ma noi non abbiamo niente. E Francesco dice, prendete l'unico libro che avevano per pregare e datelo a questa donna che lo venda e guadagni per lei. Voi immaginate la scena dei frati, ma come l'unico libro per pregare, tu ce lo togli Francesco e Francesco dirà così, il Signore avrà gradito di più la preghiera che facciamo donando questo libro che la preghiera che facciamo leggendo questo libro. È bellissima questa scena. Ecco, ci lasciamo così. con queste due virtù, l'importanza dell'amicizia, l'importanza della generosità. Vi auguro una santa giornata in questo lunedì, di questa settimana cruciale dell'anno liturgico, del cammino della Chiesa. Preghiamo vicendevolmente. Saluto tutti voi, vedo i commenti che mi inviate. Ecco, prego per tutte le vostre intenzioni. Voi fate a te tanto per me, per la nostra comunità, e San Francesco, la sua casa, illumini il nostro cammino.